Una vera e propria spedizione, obiettivo salvare le uova del chirocefalo del Marchesoni, piccolo crostaceo che in tutto il mondo vive unicamente nel lago di Pilato. La missione è stata portata a termine da tecnici e guide del Parco Nazionale dei Sibillini insieme ai volontari del CAI, i carabinieri forestali di Montemonaco, ricercatori dell'Università di Perugia e con due muli per il trasporto del materiale nel lungo e impegnativo percorso. Siamo partiti da Castelluccio per realizzare questa delimitazione fisica che serve a far rispettare una misura di conservazione che è quella che non consente agli escursionisti di andare a camminare sulla ghiaia del lago ormai purtroppo suotato dove però sono presenti le uova di questo organismo unico al mondo che è il chirocefalo del Marchesoni. Operazione necessaria per via del lago completamente secco e la cui situazione desta più di una preoccupazione. Soltanto nel 1990 e nel 2002 il piccolo bacino si era prosciugato mentre dal 2017 questo fenomeno si ripete praticamente tutti gli anni a causa dei cambiamenti climatici e si ipotizza anche come conseguenza del terremoto. Quest'anno la situazione è ancora più grave perché il lago ha stentato veramente a formarsi anche nel periodo in cui normalmente comunque l'acqua è abbondante come tra maggio e giugno che è proprio il momento dello scioglimento delle nevi già era molto basso. Nel corso dei millenni il chirocefalo del Marchesoni ha evoluto una strategia riproduttiva che gli consente di sopravvivere in condizioni ambientali estreme e instabili. Tuttavia i rischi non mancano. Il rischio è che le uova deposte siano sempre di meno, il numero degli animaletti possa diminuire nel tempo e questo può rappresentare un rischio di estinzione nel medio e lungo periodo.